allora ho preso io ok cazzo c'è Piper qui cosa? non l'avevo vista Piper c'è Piper qui dentro che vuole andarci cattivissima Piper c'è la bomba di Tana Mike dai 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 il bombardino vai no che è di volta che buio l'algo che significa? no 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 giochiamo con btv necrozzo si vittima metto il suo link in descrizione mi raccomando andatelo a seguire non so perché la goni inizio partita ma perché subito bombardino lì no 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 bombardino fa danno non gioca da un po' oppure poche diciamo coppe perché prima diciamo avere 3500 coppe era buono invece ora non giocando mi trovo ad avere poche coppe se avvera benedetta speciale quindi da un colpo a questo dato il cannoncino nascosto ottimo non so perché lago grandi grandi stiamo scalando buono buono loro hanno perché lago non ci sa perché sì si non è mai cloro ooo bb ma no non è mai cloro fatemi dare un colpo a qualcuno non so perché lago non è possibile ok no bruttissimo da super di dynamite ok andiamo dovremmo aver vinto mamma mia sei quello dell'ultima voce gg per pocio bello è molto forte poi gioca ancora g che canso vediamo se riesco a colpire perché lago non lo pocio no da piper ok buona voce no dai dai paper no dove è lui ottima voce no no nove nove ottima grandi ragazzi ciao